S'è chiuso oggi un ciclo di lavoro sul territorio che è durato un anno e mezzo. La prima parte, nella parte terminale del 2013, sono stati sei forum territoriali nelle macro aree del sistema paese che abbiamo visitato io e Derita con Baciago e anche con Balic, in cui abbiamo incominciato a dire che l'Expo si faceva e che l'Expo aveva bisogno della cultura e dei saperi del territorio. La seconda fase che ha riguardato quest'anno è che abbiamo coinvolto direttamente le regioni. Le regioni hanno coprogettato con Balic la mostra sul Paese Italia, perché ovviamente il Paese Italia è una complessità dei territori e quindi anche il racconto dei territori. Quindi abbiamo un primo prodotto che è la grande mostra. Secondo punto, le regioni hanno progettato su come venire dentro l'Expo e rappresentarsi con delle scadenze settimanali o quindicinali, con dei loro piccoli padiglioni, possiamo chiamarli così, in cui rappresentano il loro territorio. Terza cosa, hanno deciso i contenuti su cui rappresentare il sistema Paese, che non può essere rappresentato in una Macedonia tremenda di 21 racconti. hanno scelto delle aree tematiche transregionali, ma che riguardano il Paese. Ad esempio, il problema del paesaggio, agricoltura, manutenzione del territorio, paesaggio. Il problema delle macro-regioni, cioè come la macro-regione adriatica si interfaccia con altri spazi. Il tema dell'acqua, il tema della bellezza, il tema delle città d'arte. C'è tutta una serie di temi, che sono 14, che diventeranno dei momenti di racconto e rappresentazione del sistema Paese. Ovviamente allargandole anche alla dimensione internazionale, perché non ci dobbiamo dimenticare che l'Expo è una grande occasione di educazione anche alla globalizzazione che ci arriva in casa. Ultimo punto, le regioni, avendo ragionato su come partire dal territorio, si va dentro l'Expo. A questo punto si stanno attrezzando, durante i sei mesi dell'Expo, su come ricevere sul loro territorio delegazioni dei Paesi che sono presenti in questo momento a Milano e discutere con loro e rappresentare il loro territorio. Mi pare un lungo circuito che mi pare interessante.